Passaggi riusciti, mi viene da ridere perché è una roba altissima dal punto di vista della statistica Occhio perché parliamo di caratteristiche che poi possiamo vedere in squadre come la Roma se ne parla ultimamente Caratteristiche che poi portano a queste azioni, vedete il cuore dell'area di rigore che si riempie di calciatori Mentre qui in Italia ci scagniamo tra sentenze, questo allenatore è da buttare, quell'altro è da licenziare C'è un altro allenatore italiano che in Inghilterra sta facendo parlare benissimo di sé Ovviamente stiamo parlando di De Zerbi, nome che è stato accostato ultimamente anche alle big italiane Come ad esempio la Roma, vediamo cosa sta facendo perché ragazzi ne sta facendo di robe Ma prima di iniziare come sempre ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche E lasciare un like al video che aiuta sempre Passate sui miscouting per quanto riguarda il sito internet, corsi di formazione per diventare match analyst Osservatori e data analyst, abbiamo gli ultimi 4 posti liberi per il prossimo mese Formazione, programmi anche gratis, offerte di lavoro nel mondo del calcio Ragazzi trovate tutte le info qui in basso in descrizione Vi lascio qui in basso anche i link per gli altri social Ma 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 il caro De Zerbi che tanto fa parlare di sé a volte anche in maniera tossica Quasi come unica salvezza del bel gioco Ragazzi in Inghilterra è insomma delle robe le sta facendo vedere Abbiamo anche parlato su Twitch un minimo del calcio fluido di queste robe qui Nella nuova rubrica in live a gamba tesa Ed è spuntato il nome di De Zerbi Insomma quando si parla di bel gioco il caro Roberto ciccia sempre fuori Ma vediamo un po' cosa sta facendo in stagione Iniziando con qualche dato Ovviamente ragazzi i dati man mano che le giornate vanno avanti cambiano un minimo Ma delle tendenze della sua squadra le possiamo comunque notare Innanzitutto primo grafico in alto Linea rossa tratteggiata che va a segnare la soglia della media del possesso pari al 58,8% Il possesso è una statistica anche discussa ultimamente Ma qui utilizzata su larga scala e secondo me ha senso solo così Ci fa capire qual è la tendenza di questa squadra comunque modesta Vedete che a volte è lì un po' più su un po' più giù A volte supera in maniera anche importante questa linea E comunque quando scende raramente va molto al di sotto di quella soglia lì Che rimane altissima La media di gol per partita è di 1,87 Che equivale quasi agli expected gol Ci troviamo di fronte ad una squadra che è anche cinica Raccoglie quasi alla perfezione quello che semina Quindi andiamo anche oltre con i tiri per partita 13,7 tiri in media per partita Con una percentuale di tiri in porta pari al 40,7% Anche qui ottimo numero Passaggi riusciti Mi viene da ridere perché è una roba altissima dal punto di vista della statistica 86% di passaggi riusciti Media possesso ne abbiamo già parlato E duelli vinti pari al 48,7% Sia offensivi che difensivi Per quanto riguarda la statistica dei duelli vinti Lì andremo un po' nel dettaglio perché Entra in gioco l'aspetto dei singoli Statistiche belle e interessanti Ma ad un certo punto ne facciamo anche volentieri a meno Perché deve essere il campo a parlare Il calcio quello vero Caratteristica principale De Zerbi riesce ad imporre un certo tipo di possesso L'abbiamo visto statisticamente Ma come fa a trasformare questo possesso in tanti tiri Tante occasioni Tanti gol Semplicemente Si fa per dire Portando diversi uomini nell'area avversaria Una roba che le squadre di media bassa classifica Non fanno praticamente mai O comunque raramente Per paura E ci sta Assolutamente Ma De Zerbi questo timore Sicuramente non lo prova Qui contro il Liverpool Non l'ultima della classe riesce a portare diversi uomini nell'area avversaria Occhio perché parliamo di caratteristiche che poi possiamo vedere in squadre come la Roma Se ne parla ultimamente Caratteristiche che poi portano a queste azioni Vedete il cuore dell'area di rigore che si riempie di calciatori Calciatori Arriva il passaggio Occasione creata Non trasformata Ma comunque Un esempio chiaro di come De Zerbi Tende a creare occasioni Qui concetti applicati a quella che è una forma di intendere il calcio Qui ragazzi c'è sicuramente un modo di vedere che non scende a compromessi E occhio perché è una roba interessante Andando oltre Quando poi si parla di transizione Perché comunque una squadra di media bassa classifica Almeno sulla carta come il Brighton È sotto pressione Si parla anche di transizione Quando la squadra riparte Un'altra caratteristica interessante È quella di avere a disposizione Almeno due passaggi Qui uno tra le linee Un altro in profondità Seppur difficile da effettuare Perché comunque ci sono gli avversari Ma occhio perché anche qui De Zerbi Secondo me sta facendo vedere delle robe molto ma molto ben eseguite Poi in Premier dove il contropiede viene anche esaltato A volte da questo scontro quasi pugilistico tra le squadre Secondo me concettualmente un allenatore che non solo sta facendo bene Ma sta anche migliorando rispetto a quelle che sono state le esperienze passate Di nuovo tutto ciò si traduce in questo Palla recuperata Squadra che riparte Vedete lì ora l'opzione di servire due compagni Qui il passaggio sarà in verticale e gol del Brighton Quindi anche da quel punto di vista Squadra che ha sempre le idee chiare Ma andando oltre dobbiamo parlare anche della fase di non possesso Altra caratteristica qui se vogliamo storica di De Zerbi Andiamo sul classico Tanti uomini a pressare Lì davanti Lì su Pressing ultra offensivo Si vede l'attaccante tra i difensori centrali Ma qui sulla sinistra questo rombo di pressing portato da diversi giocatori A partire dal mediano che si alza La mezzala che accompagna Il terzino che viene su L'ala d'attacco che va a pressare il portatore di palla Altra caratteristica che ragazzi sta portando i suoi frutti Perché applicata in modo corretto Con De Zerbi sembra sempre che i giocatori hanno le idee chiare È una caratteristica importante Infatti la sto anche ripetendo più volte nel corso del video Anche qui ragazzi parliamo di una stagione che Durante la fase di non possesso Sta avendo un certo tipo di concretezza Quindi non parliamo solo di possesso Attacco, gol, De Zerbi, questo, quell'altro Blablabla Ma anche quando la squadra deve pressare Occhio perché le idee sono molto ma molto chiare Dove però sta soffrendo il caro Brighton Secondo me e quindi De Zerbi Dal punto di vista difensivo Ci sono delle responsabilità e dei limiti individuali Che la squadra sta pagando E ci mancherebbe altro Io a volte leggo di De Zerbi che Fa fatica, sì, tutto bello Il possesso, i gol, le azioni Quello che vogliamo Ma abbiamo visto che In fase di non possesso è una squadra che a me piace Ed oggettivamente è una squadra propositiva Nonostante l'aspetto difensivo della fase Ma dal punto di vista delle individualità Qualcosa il caro Brighton lo va a soffrire E secondo me De Zerbi ancora non ha trovato la chiave di volta Per quanto riguarda le azioni in marcatura È una situazione difficile perché quando il materiale umano e tecnico È comunque quello che è L'allenatore può sì migliorare alcuni aspetti Ma poi i limiti vengono fuori in azioni come queste Dove gli spazi liberi insomma sono importanti E lasciano spazio di manovra agli avversari Vediamo l'azione difesa tutto sommato schierata bene Ma lì lo spazio lasciato è troppo ampio Forse un tipo di marcatura mista potrebbe essere la soluzione Ma ragazzi ovviamente consiglio da esterno Senza conoscere nel dettaglio la quotidianità del Brighton E se vogliamo può essere questo aspetto Il punto debole della squadra di De Zerbi Ma stiamo parlando secondo me Di una stagione assolutissimamente importante Mi spingo più in là I tifosi del Brighton secondo me Ricorderanno a lungo quella stagione Quelle stagioni con De Zerbi Perché ragazzi le robe che stiamo vedendo Sono sicuramente di qualità Ma come sempre sono super curioso Di conoscere le vostre opinioni Vi aspetto qui in basso nei commenti Per parlarne L'analisi di oggi finisce qui Come sempre spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un like e condividetelo se vi va È stato un piacere enorme passare questi minuti con voi Un salutone e dal prossimo appuntamento De Zerbi lo rimorrei in Italia Egoisticamente E dai Tanta roba quello che sta facendo vedere Secondo me Dai in Italia robe Noi Vi No No